Ok, ragazzi vi faccio vedere come realmente si può leggere i miei pensieri. Non sto scherzando, e spero che questo video lo veda tutto il mondo perché merita davvero ed è incredibile. Non vi darò la spiegazione, perché questa è una cosa mia personale, sta a voi a rimanere a bocca aperta. Prima di tutto posso anche dividere il mazzo e mescolare le carte. Questo è importante da carte completamente che si mescolano, cioè veramente si... Giusto? Questo è molto chiaro e mescoliamo anche questo mazzetto, cioè tutto deve essere mescolato. Giusto? Ok. Altra cosa importante che voglio provare a fare è questo. Vedi che la cortesia, io non guarderò, li prendi a me che proprio non guardo, ok? E mi dovrei dire tu stop quando vuoi tu. Stop. Ok, guarda la carta. Sì. Ok, tante carte diverse, spero che si veda bene. Sì, sì, tutto diverso. Tutto diverso, mazzo di carte regolari. Sì. Tu, otto di quattro. Sì. E tu le fai insieme. Reale. Un'altra cosa, un'altra cosa che voglio far vedere sempre a tutto il mondo, è come è possibile realmente creare un gioco che non ha un'aspirazione. Mi credi in questa cosa che ti dico? Io prendo 13 carte, 3, 6, 9, 12, 13 carte. 13 carte a casa, il numero 13 potrebbe prendere 10, 20 perché il 13 è il numero preferito, ok? Mescolo le carte. Ci sei fin qua? Tutte carte regolari. Non scopro importante. Adesso, guarda tu stesso, io prendo due carte sotto, una giù, sotto, giù, in modo che le sto mescolando. Ah, per mischiarle, ok. Giusto? Sì. Tutte mescolate. Ok. Ci sei fin qua. Un attimo, ma dimmi stop quando vuoi. Stop. Ora tu stessa, guarda la carta. Sì. Vista? Io mescolo, non mi interessa niente. Ok. Ok, io non sto giustamente, dipendendo da che non vedo, vero? No, no, assolutamente, sei coperto. Ma stai avendo, sì, sì, hai visto coperto. Una carta, una figura? No. Non è una figura? Sei sicura? Eh sì. Sei di picche? Sei di picche, sì. Bravo. Ma come hai fatto? Io faccio finta anche di sbagliare, di farti capire quanto è incredibile il tutto ciò. Ma come fai? Aspetta, 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 no, sto sorprendendo. Ma che si è fatto? Vabbè, puoi chiudere. No, no. No, hai fatto un po'. Un'altra cosa che faccio vedere sempre al momento, è questa. Guardate che ho una cortesia. Semplicemente, da queste carte tutte regolari, ok, tu dovrai dirmi, a tua sensazione, stop, dove vuoi? Stop. Questa la metto su? No. La butto giù? Sì. Ok. Ora stai ben attenta. Tu stessi devi guardare la carta, mi sta? Sì. Ok. Io chiudo tutto. Sì. Mi mescolo pure perché non si interessa niente, ok? Io non posso mai sapere da un masso tutto dove sarà, giusto? Sì, sì. Però io provo una cosa che è dell'inspiegabile. Non si crede? È dell'inspiegabile. Ed è questo l'inspiegabile. Guardate voi stessi, anche amici voi da casa. Eccola. Incredibile. Il due di fiore. Il due di fiore. No. Andiamo ad un altro passo a volte, perché questa è una compilation che voglio fare incredibile. Sei pronta? Bellissimo. Sì, sì, sì. Ora ti chiedo una alta cortesia. Pensiamo al nove di picche. Dimmi stop quando vuoi. Ecco il nove di picche. Eh, ma non l'ho detto, stop. Certo. Questo è farti capire che tu non sei condizionato. No, lo posso dire quando voglio io. Stop. Questo è un fatto di capire. Non me lo dici mica te. Ora ti faccio vedere come ti condiziono con una carta che io amo, il sette di cuori. Ok? Pronta? Quando vuoi. Stop. Una, due, tre. Tre. Quindi questo, giusto? Sette di cuori. No. No, dai. Troppo forte. Io vi ringrazio ragazzi. Ciao a me ci puoi. Grazie a me. Pronto. Pronto. E', ciao. Ciao. Grazie.